Quanto è forte il legame che esiste tra il mondo terreno e quello ultraterreno del purgatorio? Voglio dire, se noi abbiamo cura dei morti, procurando loro dei suffraggi, senza che ne conosciamo la condizione, è logico pensare che anche l'anime purganti, pur ignorando le condizioni dei vivi, possano fare lo stesso. Da qui la domanda, cosa possono fare per noi? È quello di cui ti parlerò oggi. Rimani con me fino alla fine per approfondire questo vicendevole scambio di favori e scoprire come fare la tua parte in vista del 2 novembre. Questo legame può cambiare anche la tua vita e oggi saprai come. Ascolta con attenzione quello che ho da dirti e mi raccomando, iscriviti al canale e attiva la campanella per rimanere sempre aggiornato. Io sono Sommelmanis Calco, benvenuto su Gli Angeli sono con noi. Quando preghiamo per le anime del Purgatorio non lo facciamo solo perché è giusto farlo, ma perché è un atto di profonda carità. Il nostro aiuto, come abbiamo visto nei video precedenti, è come un balsamo per loro e in cambio, anche se non possono più meritare per se stesse, esse pregano per noi con un amore immenso. Le loro preghiere sono potenti perché provengono da anime amiche di Dio desiderose di fare particolarmente del bene a coloro che le aiutano. Immaginate se qualcuno ci offrisse un sollievo quando siamo nel dolore. Sentiremmo un bisogno profondo di esprimere la nostra gratitudine, non è vero? Ora pensiamo a quanto più grande sarà la gratitudine di un'anima verso chi le aiuta a raggiungere il paradiso. La sua preghiera sarà efficacissima e ci procurerà benefici immensi, tanto per la vita spirituale che per quella corporale. Queste anime stanno aspettando con ansia il nostro aiuto e questo è il periodo in cui possiamo fare davvero la differenza nelle loro vite e nelle nostre. Perciò, se non l'hai ancora fatto, lascia immediatamente le tue intenzioni di preghiera affinché siano portate, il 2 novembre, presso il Santuario delle Anime Purganti di Notre-Dame de Moligion in Francia, noto in tutto il mondo come il centro internazionale di preghiera per i defunti. I nomi dei tuoi cari saranno ricordati anche nelle sante messe che faremo celebrare ogni giorno in occasione dell'Ottavario dei Morti e un gruppo di persone della nostra famiglia spirituale pregherà per loro per un anno intero. Clicca sul link che trovi qui sotto in descrizione o nel primo commento, in evidenza, e lascia le tue intenzioni. Se hai una persona cara defunta per la quale vorresti pregare e alleviare le pene del Purgatorio, non perdere questa opportunità speciale per fare del bene a lei ma anche a te stesso, perché puoi starne certo, se tu le farai del bene, ella ti aiuterà al momento opportuno. Infatti, anche se le Anime Purganti non hanno la capacità di agire direttamente sulla terra, essendo in stato di grazia, sono amiche di Dio e possono perciò intercedere presso di Lui attraverso la preghiera, specialmente per quanti pregano per loro e offrono suffragi. Questa posizione si basa sul principio generale che ogni anima, che non sia dannata al fuoco eterno, è parte della Chiesa Universale e quindi partecipa alla comunione dei Santi. Ora, sebbene siano meno efficaci nell'intercedere rispetto ai Santi del Cielo, la loro preghiera ha comunque valore, soprattutto perché si trovano in uno stato di carità e si avvicinano sempre di più alla visione ambiatifica. Alcuni dicono che la loro riconoscenza sarà tale solo dopo che saranno arrivati in Paradiso, altri, come ho appena accennato, dimostrano che già ora possono farlo. Ad ogni modo, primo o dopo, è certo che lo faranno. Quanto al fatto se le anime dei morti possano conoscere ciò che accade sulla Terra, Sant'Ommaso dice, i defunti possono conoscere i fatti dei vivi indirettamente, sia per mezzo delle anime che giungono ad essi da questo mondo, sia per mezzo degli angeli o dei demoni, sia ancora per una rivelazione dello Spirito di Dio. Ecco allora, prosegue la Quinate, che le apparizioni dei morti, qualunque esse siano, possono avvenire, o per il fatto che è una speciale disposizione di Dio vuole l'intervento di certe anime nelle vicende dei vivi, oppure queste apparizioni si devono all'iniziativa degli angeli buoni o cattivi, anche all'insaputa dei morti. C'è dunque un dolce scambio di carità tra il cielo e la terra, con ogni parte che aiuta l'altra a raggiungere la salvezza. Tanto che Santa Teresa Davila affermava, non ho mai chiesto grazie alle anime del purgatorio senza essere esaudita. Anzi, quelle che non ho potuto ottenere dagli spiriti celesti le ho ottenute per intercessione delle anime del purgatorio. Un esempio toccante ci arriva dal 1649, quando un libraio di Colonia, Guglielmo Freissen, recevuto di distribuire cento copie di un libro sulle anime purganti, al fine di spingere i fedeli a suffragarle. Grazie a questo atto di carità, suo figlio fu guarito da una malattia mortale e poco dopo anche sua moglie, che era vicina alla morte fu salvata. Sono numerosi i racconti che dimostrano come queste anime intervengano nelle nostre vite, offrendo protezione e grazie miracolose. A Parigi nel 1817 c'era una domestica molto devota delle anime del purgatorio. Un giorno, nonostante la sua povertà, non esitò a dare i suoi ultimi denari per una messa in loro suffraggio, assistendo al santo sacrificio e unendo le sue preghiere a quelle del sacerdote, per meglio ottenere la liberazione dell'anima che più mi avesse di bisogno. Poco dopo fu miracolosamente aiutata da un giovane sconosciuto che le indicò il posto di lavoro che tanto cercava. Scoprì poi che quel giovane non era altri che il figlio defunto della sua nuova padrona, liberato dal purgatorio proprio grazie alla messa che lei aveva fatto celebrare. Di questi fatti, scrive Don Dolindo Ruotolo, ce ne sono moltissimi. E se la loro protezione è evidente nelle necessità temporali, quanto più grande non è per le necessità spirituali. Molti santi pensieri, ispirazioni che ci conducono verso il bene, persino conversioni prodigiose nel momento della morte, possono essere frutto delle preghiere di queste anime. Spesso non ci rendiamo conto, ma molte delle nostre vittorie nelle tentazioni o momenti di chiarezza spirituale potrebbero essere attribuiti all'intercessione delle anime che abbiamo suffragato. Questo ci fa riflettere su quanto sia profondo e misterioso il legame tra noi, le anime del purgatorio e Dio, e quanto sia insensato e innanzitutto meschino non venire in loro aiuto. Dimmi nei commenti se per caso anche tu hai avuto delle esperienze simili, come quelle che ti ho raccontato oggi, e poi condividi questo video con chi pensi possa essere edificato da questi argomenti. E non dimenticare di cliccare sul link che trovi nel primo commento in evidenza e di mettere un mi piace. Come sempre chiedo e prometto preghiere, se il Signore vuole ci vediamo giovedì. Che Dio ti benedica. Ciao!